Fine settimana da incorniciare per Bassano e per l'alto piano dei sette comuni, presi letteralmente d'assalto da turisti e visitatori. La città del ponte ha accolto il pubblico delle grandi occasioni tornando ai livelli pre-covid e confermando ancora una volta l'appilla sul territorio. Erano però molti anche i turisti provenienti da altre zone del Veneto arrivati per dare un'occhiata al ponte vecchio, i cui lavori sono ormai in via di ultimazione o per una passeggiata nelle piazze. Nell'alto piano invece il turismo ha cercato maggiormente sentieri e percorsi fra boschi e prati come era già accaduto in altre fasi dell'emergenza coronavirus. La possibilità di trascorrere una giornata all'aria aperta senza rischiare di incappare in assembramenti ha convinto moltissime persone a camminare negli immessi boschi dell'altopiano o raggiungere le aree meno frequentate. Anche i paesi e le contrade date le temperature quasi estive hanno fatto registrare un discreto numero di presenze per quanto riguarda la ristorazione.